Presidente, un bellissimo paesaggio, una bellissima giornata all'ennesimo organizzata dall'ATL per valorizzare questi splendidi territori della nostra provincia. Sì, ancora una volta una bellissima giornata in un altro luogo meraviglioso della provincia del Cuneo, qua siamo su Più Valli, su quella di San Pere dove Più Valli si incontrano per valorizzare quello che potrebbe diventare di nuovo un grande prodotto turistico come la Via dei Cannoni ma soprattutto per andare alla riscoperta di questi territori veramente unici che sono ricchi di bellezze naturali e sono sicuramente un'importante risorsa per il turismo cuneese. Ancora una giornata all'insegna dell'outdoor con tantissime biciclette pedalate assistite, una bella pedalata in compagnia per poi andare a degustare i grandi prodotti tipici del territorio in una delle valli credo tra le più belle perché dopo la Val Vareta ci tuffiamo adesso in quella che è la Val Maira. Dopo la Gardetta la Via del Sale, adesso la Via dei Cannoni e poi chiuderemo il primo settembre con la Route del Marguerite per far scoprire le strade militari a cavallo fra Italia e Francia e quindi scoprire anche la nuovissima Via del Duca. Come consorzio stiamo dando assistenza logistica in questo caso di nuovo all'ATL e al Comune di Elva ma crediamo in questo progetto che poi troverà anche il suo punto finale in occasione del Festival dell'outdoor dove verrà come ha detto il Presidente Chiappella verrà presentato un documento finale per fare la sintesi su quello che è il valore delle strade di montagna e gli interventi che ci sono da fare importanti perché abbiamo visto sia sulle strade bianche che sulle strade asfaltate e intervallive necessitano di interventi a volte anche di manutenzione ordinaria perché buche e non buche sono un problema chiaramente per i ciclisti quindi se crediamo nel turismo questa è la strada giusta però gli interventi bisogna farli non solo a parole. Ringrazio l'ATL e il Presidente Bernardi per questa iniziativa che è un momento di comunicazione e promozione di un prodotto straordinario abbiamo qua attorno uno scenario che toglie il fiato e che si può raggiungere percorrendo quindi con le due ruote con i quad che vediamo qui posizionati con le biciclette pedalate assistite le nostre strade bianche le strade sono strade e non sono riserve bisogna lavorare in quella direzione io porterò nell'autunno come ho promesso sul tavolo della regione Piemonte una piccola rivisitazione legislativa della legge che già resiste sulle strade bianche e cercheremo di vedere se è possibile alloccare delle risorse per la manutenzione tenendo conto che però in provincia di Cugno abbiamo l'esempio più fulgido d'Italia che viene preso ad esempio in Italia ma anche nel resto d'Europa che è la via del Sale quindi una strada regolamentata con dei pedaggi con i quali si può fare manutenzione